Grazie Presidente, questa mozione in realtà è una parte della mozione già approvata da numero 86 che abbiamo approvato oggi stesso, che prevedeva tre iniziative, una di queste era la spesa sospesa e chiedeva alla Giunta e alla Sindaca di mettere in campo tutti i canali di comunicazione di Roma Capitale, quindi compreso il sito, per dare diffusione e quindi comunicazione anche attraverso la collaborazione con i municipi di tutti coloro che fossero iniziatori di questa iniziativa, insomma quindi le attività commerciali, mercati regionali abbiamo detto, supermercati o altre attività produttive sono le benvenute nell'attivazione di questa spesa sospesa e Roma Capitale recepirà queste informazioni e le includerà come già fatto con tutte le altre iniziative nel sito Roma Aiuta Roma che già ne comprende tutta una serie importante, insomma, che vanno dal sociale ai servizi, insomma, quindi il Movimento 5 Stelle si asterrà poiché abbiamo già votato una mozione analoga che comprende questa mozione. Grazie.